Cari naviganti, bentornati! Sessantesima puntata delle colonne d'Ercole. Oggi parliamo del film 1984 e di come i dissi di fra il regista e la produzione abbiano portato in questo film a una serie di problemi che hanno riguardato specificamente l'argomento che più ci interessa, cioè la colonna sonora. Parleremo del compositore cui è stata affidata e parleremo degli Eurythmics. Allora, il film di cui parliamo oggi è 1984, film omonimo del famoso romanzo di George Orwell, naturalmente, diretto da Michael Redford, sì, proprio quel Michael Redford che pochi anni dopo dirigerà l'ultimo film di Massimo Troisi, Il Postino, ed è un film nel quale vedremo come i dissi di che ci sono stati tra il regista e la produzione hanno portato a non ricevere alcuni importanti premi. Allora, il romanzo di George Orwell era stato scritto nel 1948 ed era ambientato appunto in un ipotetico e distopico e futuribile, magari non molto futuribile, nel senso non molto auspicabile, 1984. I protagonisti del film sono John Hurt, Suzanne Hamilton e Richard Burton nel suo ultimo film, nella sua ultima apparizione cinematografica, anche perché scomparirà poco tempo dopo la fine delle riprese. Il regista, Michael Redford, affida la colonna sonora a Dominic Maldowney, un compositore abbastanza noto nell'ambiente, anche se non uno di quelli famosissimi che comunque, insomma, si era fatto notare per una serie di score scritte negli anni precedenti, ben scritte e ben strutturate. E Maldowney scrive una bella colonna sonora per questo film, una colonna sonora che mischia musica orchestrale a musica elettronica, all'uso delle onde Martenot, che se non sapete cos'è, vi posso dire, insomma, che sono uno strumento inventato nella prima metà del secolo scorso, insomma, fondamentalmente uno dei primi strumenti elettronici, insomma, che richiede, tra l'altro, una grande perizia per essere suonato, insomma, uno strumento molto particolare, che abbinato all'orchestra dava alla score di Maldowney un effetto molto particolare e particolarmente adatto a un film distopico come 1984. Allora, per chi non lo sapesse, la storia è ambientata appunto nel 1984 e racconta di un futuro distopico e non praticamente augurabile in cui praticamente la vita di tutti i cittadini è regolata, regolamentata da un partito che attraverso una propaganda tende fondamentalmente a uniformare e ad appiattire sempre di più i cittadini, soprattutto i loro lati più umani. C'è un chiaro riferimento, insomma, a quello che era stata l'esperienza del nazismo, ricordate che il romanzo è nel 1948, quindi appena finita la guerra, c'è un paese che si chiama Oceania, un paese inventato naturalmente, ma insomma, ma il riferimento al mondo occidentale è fin troppo palese. Era da diversi anni che si voleva realizzare una trasposizione cinematografica del romanzo di Orwell. Solo nel 1980 si arriverà a un accordo con la vedova dello stesso Orwell per la realizzazione del film. Ci furono una serie di richieste specifiche che la vedova fece, e cioè in particola lei non voleva che questo film fosse trasformato in un film di fantascienza. E fu per questo che il film fu realizzato fondamentalmente in alcuni dock di Londra, una parte del porto che sarebbe stata poi di lì a poco abbandonata, abbattuta e ristrutturata e riqualificata, come si dice oggi. E il film fu girato praticamente nello stesso periodo in cui il romanzo è raccontato, quindi in quei 3-4 mesi del distopico e futuribile 1984. Cominciamo a dire che subito dall'inizio il rapporto fra la produzione e il regista non fu ottimo, proprio ci furono delle diverse... una diversa visione del film. Intanto il regista voleva realizzare il film in bianco e nero, e la produzione assolutamente fu contraria, perché lo riteneva poco commerciale. Allora si raggiunse il compromesso di utilizzare una tecnica che si chiama bleach bypass, che praticamente serve, diciamo così, ad invecchiare l'immagine, per cui siccome all'interno del film ci sono questi enormi schermi in cui vengono proiettate tutte le immagini della propaganda, queste immagini vengono appunto girate utilizzando questa tecnica, che tende un po' ad invecchiarli, infatti se le vediamo sembra un po' un filmato degli anni 30 o 40. Per chi non lo dovesse sapere, è dal romanzo di Orwell che è tratto il famoso Grande Fratello, che è questa figura che viene sempre proiettata su questi schermi appunto, che condizionano in ogni aspetto la vita dei cittadini, che non possono sottrarsi dal vedere questi schermi, quindi sono completamente soggiogati e obbligati ad ascoltare non solo la propaganda, ma eseguire gli ordini che vengono loro impartiti attraverso questi schermi e così via. Quindi il termine Grande Fratello viene appunto da quello. Vediamo qui la foto di quello che è appunto nel film Il Grande Fratello, e chi è questo signore? In realtà questo signore non parla mai, cioè si vede solo queste immagini fissa, come dire, il concetto è il Grande Fratello ti guarda, quindi ma non si vede mai, non si sa, non ha mai parlato, non si sa se è vivo, se è morto, se è mai esistito. Tanto è vero che quando si stava facendo il cast, si stava pensando a che attore scegliere per una parte, da un lato così semplice, perché appunto una parte che doveva consistere in uno sguardo fisso, senza muoversi, una fotografia fondamentalmente, senza mai parlare. E ci furono diverse proposte. Tra le proposte più interessanti per questo ruolo abbastanza insolito vengono fatti i nomi di Anthony Hopkins e di Sean Connery, e invece alla fine fu un anonimo attore dilettante fondamentalmente, dal nome di Bob Flagg, a venire scelto per questo ruolo così importante, credo che sia il ruolo forse più importante, nel senso che fondamentalmente potremmo dire che è il protagonista occulto del film, anche se in realtà non dice mai una parola. A film finito, quindi, mentre Dominic Maldowney sta scrivendo la sua colonna sonora, la casa di produzione, ancora prima di aver ascoltato una singola nota scritta da lui, decide che forse per andare a intercettare un pubblico più giovane è necessario affidare la colonna sonora a un gruppo o a un cantante particolarmente famoso. Allora, abbiamo già visto, se vi ricordate, quando abbiamo parlato di Flash Gordon, che è stato il primo caso in cui un'intera colonna sonora, e non solo qualche canzone o qualche frammento, era stata affidata a un gruppo musicale, nella fortispecie erano i Queen. Vi lascio il link in descrizione, qui sotto se siete su YouTube, e qua sopra se siete su Facebook. Allora, la prima scelta che fa la produzione per andare appunto a intercettare questo pubblico più giovane, è di affidare la colonna sonora a David Bowie, che nel 1974 aveva fatto uscire un album che si chiamava Diamond Dogs, che era palesemente ispirato al romanzo di Orwell. Ma Bowie è un grosso, grosso divo, e chiede una grossa, grossa somma, che fa desistere la produzione, che allora cerca qualcosa di un po' più, come dire, abbordabile. La scelta allora cade su un gruppo probabilmente meno importante di David Bowie, ma che in quegli anni andava particolarmente forte, e cioè gli Eurythmics. Vi ricordate sicuramente Annie Lennox e la sua famosa Si crea quindi questa situazione per cui gli Eurythmics scrivono la colonna sonora non sapendo che c'è un altro compositore che già la sta scrivendo. E l'altro compositore ovviamente non sa che è stato ingaggiato un altro gruppo, perché è stata fatta dalla casa di produzione una scelta stilistica completamente diversa rispetto a quella che aveva pensato il regista. Non per niente il povero Maldauni scoprirà che la sua musica non verrà utilizzata in massima parte quando è in studio di registrazione. Quindi lui praticamente sta finendo di registrare e gli viene detto che buona parte di quello che aveva appena registrato non sarebbe stato utilizzato. Il regista Michael Redford non è per niente contento della scelta degli Eurythmics, ma non ha niente contro gli Eurythmics, è proprio contrario alla scelta di una musica pop. Qual è il rischio, e su questa cosa ha perfettamente ragione, che poi quel suono diventerà nel tempo un suono datato. Cosa voglio dire? Molte volte noi guardiamo un film degli anni 80 o degli anni 90 sentiamo dei suoni, soprattutto di tastiera, che sono particolarmente identificativi di quegli anni. Pensate solo a quello che ha fatto Scorsese con le canzoni per andare a identificare un periodo storico ben preciso. Ma qui il rischio è all'opposto. Il rischio, cioè, è che poi ascoltandolo anni dopo una colonna sonora che abbia dei suoni tipici di quegli anni, la colonna sonora suoni come datata. Cioè, un conto è usare una canzone che serve volutamente a indicare un periodo storico. Un conto è usare una musica con dei suoni che vanno oggi, che tra cinque anni suoneranno incredibilmente superati. Quindi quel film, come dire, non sarà più un film attuale. Il film va bene, ha un buon successo commerciale, ma soprattutto viene osannato dalla critica. Michael Redford, però, nonostante il successo del film, e nonostante soprattutto, come dire, il plauso della critica a un regista, non possa che far piacere, evidentemente, non è per niente soddisfatto. Tanto è vero che il film vincerà l'Evening Standard British Film Awards. E lo vince proprio nella categoria miglior film. Quindi, voglio dire, una di quali situazioni che dovrebbero mediamente mettere d'accordo gli eventuali dissidi che possono essere successi durante la produzione del film. Al discorso di ringraziamento per questo premio, Michael Redford invece non le manda a dire e racconta a tutto il mondo che lui non è per niente soddisfatto del prodotto, in particolare, con riferimento in particolare a colonna sonora, e addirittura, in qualche maniera, ne disconosce la paternità. Ancora peggio, farà con i BAFTA, che sono praticamente, potremmo dire, il premio inglese più importante a un film. Praticamente Redford cosa fa? Ritira la candidatura del film. Per cui un film che aveva delle altissime possibilità di ricevere delle nomination e forse anche, addirittura, concorrere per la vittoria finale, viene ritirato, con grande disappunto, della produzione, viene ritirato dal regista che ovviamente ha il potere di fare questa cosa. Molte volte mi chiedono ma chi decide alla fin fine che musica va sul film? Il regista, la produzione, il montatore, il compositore? Ecco, diciamo che il compositore è un po' l'ultimo in questa catena di comando. Lo decide fondamentalmente chi ha il final cut, cioè quella clausola che c'è nei contratti che appunto stabilisce chi ha l'ultima parola. Generalmente c'è il regista, immaginiamo in un caso di un Kubrick o di uno Scorsese ovviamente il final cut c'è il regista, ma in altri casi il final cut c'è la produzione, per cui, benché il regista possa non essere d'accordo con le scelte fatte della produzione, alla fine la produzione fa quello che vuole. Solo circa 20 anni dopo, nel 2003, uscirà un DVD con il director's cut, cioè con la versione voluta dal regista, quindi con alcuni montaggi leggermente diversi, ma soprattutto con la score di Dominic Maldowney reintegrata nel film. Allora, io non ho visto questo film, tra l'altro, meglio, la versione, non ho visto la versione del 2003 del director's cut, oltretutto non è facilissimo da trovare. Ho visto naturalmente la versione, come dire, ufficiale, è un film molto bello, che comunque vale sicuramente la pena di vedere, è molto angosciante e incredibilmente avanti, con una visione, sì, di un futuro sì distopico, ma se vogliamo, insomma, se non nelle conseguenze, nei contenuti non tanto, tanto diversi da quello che poi è diventato il mondo della comunicazione globale. Per cui la colonna sonora a cui mi riferisco è quella del film che si trova anche sulle varie piattaforme, è quella fatta dagli Eurythmics, con in parte, in minima parte, anche le musiche di Maldowney, ma insomma, diciamo che i protagonisti principali sono gli Eurythmics. A me la colonna sonora non è neanche spiaciuta, devo dire, cioè ha un suo perché, però il fatto che il regista fosse così attaccato invece alla score che aveva scelto lui, insomma, deve pure avere un qualche peso, infatti sono veramente curioso di andare a cercare, ho trovato su un paio, ci sono un paio di siti specializzati in Australia in cui forse riuscirò a recuperare questo DVD e sarei veramente curioso di fare un raffronto fra le due versioni. Bene, naviganti, la puntata è finita, se vi è piaciuta vi invito a lasciare traccia del vostro passaggio, iscrivendovi al canale YouTube o mettendo un like alla pagina Facebook della Colonna d'Ercole. Ci vediamo alla prossima puntata.